Mi ero visto più a giugno di quest'anno, venivo da un settore completamente diverso che era la grande distribuzione, non mi dava più stimoli, quindi non ero proprio più stimolato e la cosa che proprio mi ha portato in questo ambiente è stato proprio il fatto che in questa azienda si analizzano i numeri e i risultati sono dati dai numeri, quindi è una cosa oggettiva, non è una cosa che è opinabile, nel senso che uno si porta dei risultati a livello di numeri viene comunque valorizzato, infatti ho iniziato come venditore e adesso prenderò a mano l'area di Monzi e Brianza come capo aria e avrò come collaboratori, come consulenti, due agenti più uno che è in formazione che adesso stiamo facendo l'affianchamento. La cosa che mi entusiasma è che questo lavoro è diverso ogni giorno ed è sempre stimolante ogni giorno, magari una giornata iniziata male può finire bene e viceversa, quindi questo è quello che mi entusiasma, che mi ha appunto stimolato a cambiare un lavoro dove io avevo il mio bel posto fisso, il mio stipendio tranquillo e invece mi ha portato proprio a fare un altro tipo di scelta a 46 anni. Grande, grazie!